ciao baby sono gometa la fata dei sogni e vivo in questo bosco incantato in compagnia delle mie amiche fate i simpatici gnomi e tutti gli elfi e le ninfe della foresta da qualche tempo alcune fatte pirichine hanno fatto una magia usando la polvere di fata hanno creato delle strane manine la conta favore queste buffe mani hanno iniziato a riempirsi di tutti i colori dell'arcobaleno ed a creare tanti rumori rilassanti usando oggetti presi qua e là nel bosco incantato con l'aiuto di queste manine di alcune amiche fate e un elfo tutto buffo vi racconterò le più rilassanti favole della buonanotte che avete mai sentito e alla fine di ogni favola spegneremo insieme le luci e accetteremo le stelle vi aspetto ogni settimana con meravigliose favole e dolcissimi sogni